musica mettiamo un bel max rap e cefalo che bello è il suo momento è il suo momento ma sarà pacefalo bravo 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 cos'è? Serra o Guglia? nooo ha tagliato tutto si è slamato ma porco zio buona bello cazzo era grosso questo qua si si è andato tutto si è andato si è andato hai ferrato bene hai ferrato bene si vediamo un po' stancorette no sono buone l'ho visto pure io apposta apposta vediamo il filo cazzo varia lo guarda il filo hai capito dove c'era questo apri un attimo l'archetto qua vedi ah porca puttana un po' tutto ce l'aveva eh ho fatto il debbaccendere guarda hai acceso la telecamera lì e subito era incannato forse si vede anche ma porca cosa facciamo lo tagliamo e lo non lo so vedi tu lo vuoi lanciare subito dai facciamo un altro rilanci ma porca ha attaccato subito ha lanciato due cercate e boom ma porca si 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 la e ci sono le aguglie guarda la che stava presso a me guardala aspetta eh ho fatto se non vado errato ho fatto un attacco perché si è mosso un botto d'acqua vediamo un po' se me la da si 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 è il problema alla marle ma perlomeno capire se ci sono hai capito dopo ci mettiamo un giga qualcosa si 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 guarda 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 la la boccia d'acqua vai hai visto e questa è una aguglie non può essere altre cose perché sennò il serrame l'aveva già mangiata quest'ora sono aguglie sono aguglie secondo me sono aguglie poi dopo lo provo ma non si gestisce lo so già però magari in quell'attimo di quei 3 secondi 4 che che non che non c'è onda qua sta diventando già bagnata la cosa si sta alzando un po' di venticello eh si sta alzando un po' di venticello si sta alzando un po' di venticello quindi non 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 e fai fatica con questo qua proviamo a tornare a Gerge a vedere se per caso arrivato di lato gli è arrivato neanche da dietro proprio di lato no cos'è stai mangiato recupero veloce o mezzo sto andando veloce con cercata continua continuo boom 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 e già dati però mi ha preso fuori eh si si perché c'è un gradone là vedi dove fa l'onda c'è una sorta di scalino dove c'è poco eh hai visto? è partita anche la frizione porto giura eccolo c'è 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 ma sei eslamato pure a me e l'ho ferrato due tre volte anche bello bello si non era enorme però era bello ho una mano Gianmarco è oh sì sì meglio meglio ok oh che ria aspetta vediamo torno aspetta che sennò la torno indietro un pochettino ok vai di punta adesso sotto dentro sfilalo poi dopo boh 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 vai piano adesso sfilalo in su piano in su sfilalo sfilalo che l'importante le barracuda sono queste aguglie ma che roba madre mia belle eh aguglia dai dai che ci stanno lo facciamo la ripariamo allora eh la ripariamo qua si è andata subito e barracuda e poi tirano comunque non stavo nemmeno riprendendo porca miseria tira la piccolina piccola o è grande com'è sì 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 tira la verso di qua con la canna bella bella beh tipo la mina dai buona sento alle mani ah l'ho pesata ti fa la foto si si fai la foto dai che ti aspettano ancora bello male è scappottato ah 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 ma ammorsicato hai visto aspetta che te la do in mano a te che devi fai la foto cosa fai la tieni o la liberi questa cosa la tieni o la liberi no liberiamo ma che casino che ha fatto questo foro caldo aspetta che le ha le dita eh ok buona ma ti ha ripresa bene grazie mille a posto voilà è una andata Sì 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 Sì